ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale oggi siamo qua con una Passat 2020 in allestimento business dotata già di MIB3 la nuova unità che c'è da 2020 in poi in alcune auto anche da 2021 la potenzialità di questo MIB3 è che anche il Discover Media che vedete quello famoso con le due rotelle riesce a leggere i video ad auto ferma però vi faccio un esempio attaccando la nostra chiavetta usb nella presa type c lo vedete c'è un video in riproduzione con audio e video il problema qual è che se noi adesso partiamo vedete il video si va ad interrompere va solo l'audio e questo è un bel limite vediamo cosa succede dopo la nostra attivazione rieccoci dopo la nostra attivazione ritorniamo su media possiamo già vedere che il video è ripartito siamo ancora ad auto ferma partiamo e come potete vedere dal contachilometri siamo già a 20 all'ora il video continua a essere riprodotto questa attivazione vi ricordo è fattibile su tutti i MIB3 Discover Media Discover Pro che ci sono nelle auto nuove quindi qualsiasi Volkswagen Seat Skoda eccetera ragazzi se vi è piaciuto il nostro video mi raccomando spollicciate iscrivetevi al canale campanellina e seguiteci sui nostri vari social ciao a tutti alla prossima attivazione